Si è svolta a Roma, nei pressi della nuova area residenziale adiacente al Parco della Marciliana, la presentazione di Orti Urbani Regole per l'Uso, il nuovo concept abitativo realizzato dal gruppo Batelli con l'ausilio dell'Università di Perugia. L'architetto Eugenio Batelli, pioniere dell'introduzione dell'ortocoltura in ambiti residenziali, ha raccontato la genesi di questo progetto Profondamente Green. L'idea nasce dalla volontà di elevare lo standard abitativo dell'intervento edilizio che stiamo realizzando e soprattutto perché ci troviamo in un contesto del tutto particolare che è un sito al confine del Parco della Marciliana, che è una delle aree naturali protette e più importanti della città. E quindi è venuto di conseguenza il ragionamento che applicare questo sistema degli orti urbani ha comunque una valenza sia per chi abita il nuovo quartiere, sia per l'abitato all'intorno del quartiere. L'Italia e Roma in particolare sono molto indietro sull'utilizzo del verde privato rispetto ai paesi del nord Europa. Con Orti della Marciliana nascono 150 nuovi orti privati, alcuni associati ai nuovi appartamenti, altri messi a disposizione dei residenti del quartiere. La passione per la terra trova finalmente una sua dignità, un ruolo primario e un'organizzazione sistemica in ambito residenziale. L'utilizzo comune di attrezzi e dei capanni per gli utensili agricoli, oltre allo scambio dei prodotti che si potrà instaurare tra vicini di orto, saranno la naturale conseguenza di socialità tra gli abitanti del quartiere. Molti ovviamente i benefici per la salute, come ricorda il professor Bruno Romano, docente di botanica ambientale applicata all'Università di Perugia. I risultati, gli esiti possono essere veramente notevoli. Intanto perché si ha la possibilità di poter avere a disposizione frutta e verdura di primissima produzione, freschissimi, quindi veramente a chilometro, anzi direi a centimetro zero. E poi una cosa meravigliosa, il fatto che questa attività si svolge all'aria aperta. Quindi importantissimo, intanto per una sorta di risocializzazione. Il professor Aldo Ranfa, anche egli ordinario di botanica ambientale applicata dell'Ateneo Umbro, racconta l'impegno dell'Istituto e l'entusiasmo dei ricercatori, che vedono finalmente realizzato questo concept innovativo che unisce natura e cemento, costruttori e agronomi. Noi dal 2008 che avevamo stilato delle linee guida per la progettazione e l'allestimento di orti urbani e peri urbani, valido per quella cinta di aree verdi che erano di confine tra la campagna e la città. E da quel progetto i costruttori hanno notato questo lavoro e quindi ci hanno chiamato per consulenze in questo campo. E allora via con pomodori, carote, ravanelli, cavoli e zucchine. Gli orti della Marcilliana prevedono anche la fornitura di materiale didattico e l'assistenza dell'Università di Perugia ai neofiti dell'orto che in primavera inizieranno a coltivare i loro prodotti sotto casa.